È tempo di abitare il mondo in modo nuovo, perché un mondo nuovo non c'è. Perché i problemi ambientali sono i nostri problemi e richiedono un approccio sistemico e il contributo di tutti. E subito, la rigenerazione del paese parte dalla scuola, perché la scuola è il battito della comunità. Grazie a tutti.